Visite gratuite in occasione della giornata nazionale dell'incontinenza che si tiene ogni anno il 28 giugno. A metterla a disposizione degli utenti è l'urologia dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Obiettivo della giornata istituita nel 2006 è quello di abbattere il muro dello stigma sociale rappresentato da questa problematica. Un fenomeno che secondo le più recenti stime nei 27 paesi dell'Europa riguarda oltre 36 milioni di persone, mentre in Italia le persone affette da incontinenza sono circa 5 milioni con un costo globale di 2,5 milioni di euro, poiché spesso, a causa della vergogna nel denunciare questa problematica, sia uomini che donne preferiscono nascondere il disagio piuttosto che parlarne al medico. Di incontinenza non si parla molto, spiega il dottor Stefano Rosadi, direttore dell'urologia del Valdarno, ma ci sono tante persone che vivono questo disagio in silenzio perché imbarazzo e vergogna impediscono loro di rivolgersi al proprio medico. Il problema è dovuto a fattori di rischio diversi, familiarità, età, gravidanze, menopausa e assetto ormonale, isterectomia, obesità. Non tutte le incontinenze sono uguali, spiega la dottoressa Marilena Gubbiotti, dirigente medico urologo dell'ospedale del Valdarno. E questa giornata potrà rappresentare l'occasione per molte persone di parlare con uno specialista di un disturbo che spesso crea ansia, imbarazzo e isolamento sociale. E di scoprire che l'incontinenza si può alleviare e gestire con alcuni cambiamenti del proprio stile di vita, appositi esercizi di ginnastica, terapie farmacologiche o interventi chirurgici mini-invasivi. Le visite urologiche gratuite si terranno il 28 giugno presso gli ambulatori dell'urologia dell'ospedale La Gruccia di Montevarchi. Sin da adesso è possibile prenotare una visita telefonando al 331 23 17 863 o inviando una mail all'indirizzo che vedete in sovra impressione.